Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it con 41.303 tamponi eseguiti e di 2.302 il numero di nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale quindi inferiore al 5,6%. Continua la diminuzione dei ricoveri, in terapia intensiva sono 814, 10 meno di ieri, mentre negli altri reparti scendono sotto quota 6.000 con 163 dimissioni. I decessi sono stati 77, il che porta il totale da inizio pandemia a 31.753. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 734 contagi, a Brescia 367, a Bergamo 244, mentre Varese è settima su scala regionale con 112. E intanto da domani la Lombardia tornerà in zona arancione e tutti i dettagli saranno disponibili su prealpina, in edicola e su supporti digitali. E sempre in tema di Covid, a Saronno è stato inaugurato ieri il nuovo centro vaccini che da domani funzionerà a pieno regime. Vediamo tutti i dettagli nel servizio realizzato da Marco Raimondi con immagini di Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz. I 5.000 posti disponibili per aprile sono stati esauriti in poche ore. Non è ancora stato aperto, eppure già affollato il centro vaccinale anti-Covid che il comune di Saronno ha voluto allestire nella palestra dell'ex scuola Pizzigoni in via Parini. Un percorso non semplice, anche perché il sindaco Augusto Iroldi ha dovuto fronteggiare non poca concorrenza da parte di altri comuni della zona. Ieri mattina, sabato 10 aprile, il taglio del nastro, a cui si riferiscono queste immagini, alla presenza di numerosi sindaci, Gerenzano, Uboldo, Solaro, Carono Pertusella, Origio, Rovellasca e Turate. Il centro vaccinale saronnese apre domani mattina e sarà operativo tutti i giorni, dalle 8 alle 20, grazie anche al contributo dei volontari di protezione civile e associazione carabinieri. Per ora verranno somministrate 400 dosi al giorno, con potenzialità per arrivare fino a 690. La particolarità di questo nuovo hub è che i cittadini in attesa di essere vaccinati saranno intrattenuti con brani musicali eseguiti da un pianista e potranno ammirare le riproduzioni del concerto degli Angeli di Gaudenzio Ferrari custodite nel santuario della Beata Vergine. Alla schiranna si sono conclusi oggi gli europei di canottaggio con la finale del doppio pesi leggeri femminile che ha proiettato di nuovo Federica Cesarini tra le stelle del remo internazionale. L'Azzurra, cresciuta alla canottieri gavirate e in forza alle fiamme oro, ha infatti conquistato la medaglia d'oro in coppia con Valentina Rodini. Alle prime azioni erano presenti anche i ministri Massimo Garavaglia e Giancarlo Giorgetti e proprio Giorgetti, a margine della cerimonia, ha rimarcato l'importanza del connubio tra sport e territorio per la provincia di Varese. E anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio sul giornale di domani. Spostiamoci ora ad Azzate, continua a tenere banco la polemica sul cantiere nella zona della Pesa. Il ritrovamento di lapidi e resti umani ha spinto alcuni esponenti dalla comunità militante dei dodici raggi a chiedere lo stop dei lavori in polemica con il sindaco Gian Mario Bernasconi. I Dora hanno anche danneggiato le reti a protezione del cantiere. Dal canto suo il sindaco ha annunciato che le ossa saranno portate al cimitero e che domani i lavori riprenderanno regolarmente. Da Legnano arriva una storia agghiacciante. Un trentenne sudamericano è stato portato in carcere dai carabinieri accusato di violenza sessuale sulla figlia di appena 4 anni. L'uomo è stato arrestato nel tardo pomeriggio di venerdì di intesa con il pubblico ministero Rossella in Cardona e domattina verrà interrogato dal GIP Stefano Colombo. Stando a quanto emerso finora sarebbe stata la moglie e dunque la mamma della vittima a sporgere deruncia in caserma. Chiudiamo con l'economia. I primi bonifici previsti dal decreto sostegni varato il 19 marzo dal Consiglio dei Ministri sono già arrivati a destinazione e altri arriveranno nelle prossime ore. Proprio mentre i lavoratori agricoli scendevano in piazza per protestare per la mancanza di aiuti è stato infatti disposto il pagamento per oltre 22 milioni di euro di contributi a fondo perduto a favore di 6.918 imprese della provincia di Varese. La cui richiesta di ristoro per le chiusure e gli effetti della pandemia è giunta entro la mezzanotte del 5 aprile sull'apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate e tutti i dettagli sono già disponibili su peralpina.it. Sul nostro sito trovano ampio spazio anche risultati e commenti degli appuntamenti sportivi della giornata di oggi in cui sono state impegnate squadre del territorio. Questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 13, una buona serata!